9 aprile amici miri eccoci e abbiamo ancora negli occhi la bellissima partita tra Real Madrid e Manchester City non so se l'avete vista ieri sera ma mi sono divertito è stato davvero una bella partita in questo canale parliamo sempre di Milan no però concedetemi giusto 10 secondi 20 secondi su quella che è stata una gara spettacolare bellissima quanti campioni in campo gioco spettacolare difese probabilmente non impeccabili però tutto questo ha contribuito allo spettacolo allo show allo show di Real Madrid Manchester City finita 3 a 3 se ne riparla al ritorno tutto ancora aperto tra l'altro anche l'altra partita tra Arsenal e Bayern Monaco è finita 2 a 2 praticamente 10 gol segnati in due partite di Champions League comunque lo spettacolo della Champions è sempre affascinante sperando che sia affascinante anche lo spettacolo dell'Europa League perché ci stiamo avvicinando oggi è la vigilia di Milan Roma domani ore 21 stadio San Siro strapieno per questa partita d'andata dei quarti di finale di Europa League stamattina ci sarà l'allenamento la rifinitura al centro sportivo di Milanello scioglieremo le ultime riserve ne parleremo all'interno di questo video poi parleranno in conferenza Pioli con Ben Nasser rossonieri che arrivano in un buon momento arrivano a questa partita questo doppio confronto con la Roma secondo me in forma hanno recuperato anche Malik Chao questa è la notizia che abbiamo dato ieri e vi diciamo che Malik Chao e Simon Kier sono in ballottaggio si giocano un posto si giocano la maglia da titolare il centrale danese l'esperto centrale danese ma anche il giovane centrale tedesco ho letto un po' i vostri commenti sul duello tra Malik Chao e Kier qualcuno giustamente ricorda che questa non è stata l'annata di Chao non è stata la miglior annata a livello di prestazioni per Malik Chao tra l'altro per esempio ha fatto non bene con il Monza non ha fatto bene neanche per esempio con la Juve quando beccò il cartellino rosso ha avuto un lungo infortunio insomma non sembra che sia il momento migliore per Chao però è anche vero dall'altro lato che qualcuno ricorda che c'è un Simon Kier che ha la sua età e che deve duellare con un certo Lukaku oppure con gli inserimenti di Bale del Sharavi che sulla velocità possono mettere in difficoltà Simon Kier purtroppo manca Tomori lo diciamo ragazzi Tomori in questo momento serviva tanto al Mian maledetta quella ammunizione contro lo Slavia Praga che ha portato poi il Mian a perdere Tomori per questo confronto con la Roma e ora bisogna fare di necessità virtù c'è solamente gabbia con uno tra Chao e il buon Kier vedremo Stefano Pioli nelle prossime ore chi deciderà di schierare dal primo minuto poi parleremo anche del resto della propria informazione vi invito come sempre ad iscrivervi al canale non siate timidi iscrivetevi tanto è tutto gratuito ha parlato ieri Rafa Leao e ha secondo me detto delle cose molto interessanti soprattutto fanno capire in questo momento il sentimento che prova Leao nei confronti del Milan della famiglia Milan può sembrare retorica può sembrare banale ma questo ragazzo nell'ultimo periodo sta facendo davvero delle dichiarazioni d'affetto e d'amore nei confronti del Milan più di qualsiasi altro giocatore e ha capito secondo me l'importanza della scuola rossonera che lo ha fatto crescere lo ha aspettato lo ha coccolato lo ha fatto maturare e da un ragazzo quando è arrivato al Milan era praticamente un ragazzino ora è diventato un uomo è stato premiato per le 200 presenze con la maglia rossonera da Giorgio Furlani da Moncada da Dottavio e anche da Zlatan Ibrahimovic il discorso di Furlani è stato il seguente Rafa tu parli del Milan e dici che il Milan è come una famiglia dice che il mister è come un papà quindi io sono come uno zio dice Furlani siamo molto contenti di avverti nella nostra famiglia e mi raccomando continua a ispirare tanti giovani milanisti perché Leao sa che viene visto come un esempio per tanti giovani cuori rossonieri ma risponde Leao e dice in questa premiazione a Milanello sono orgoglioso molto contento di queste 200 presenze qui è la mia famiglia e casa mia grazie a tutti spero di farne altre 200 partite qua con il Milan secondo me sono delle belle parole anche perché Rafa non è la prima volta che come dire utilizza questi termini così importanti per sottolineare il suo affetto il suo legame il feeling con l'ambiente rossonero con la tifoseria con Pioli con la squadra con i compagni al Milan e quindi sono delle belle parole queste di Rafa Leao lasciatemelo dire soprattutto in un periodo in cui è stato messo in discussione da sapete bene da da qualcuno qualche ex giocatore che probabilmente ha un po il dente avvelenato ma non so per quale motivo abbia preso Leao di Mira torniamo alla probabile formazione poi più tardi dopo l'allenamento vi lascerò anche un po di immagini dell'allenamento che si è svolto al centro sportivo rossonero il balottaggio tra Kier e Ciao lo abbiamo detto Gabbia dovrebbe giocare al centro la difesa con Calabria a destra e Teo Hernandez a sinistra in porta Mike Mignan a centrocampo tutto ci porta a pensare che Pioli stia per scegliere la coppia Ben Nasser Reinders due giocatori importanti due giocatori chiave Reinders è salito tanto di condizione nell'ultimo periodo ha fornito anche dei bei palloni lo stesso Ben Nasser che tra l'altro parla in conferenza stampa questo può essere un indizio in più è salito di condizione probabilmente gli chiederemo in conferenza come sta passato un anno difficile però arriva un finale di altissima intensità di alto livello in cui il Mian vuole vincere qualcosa in questo finale di campionato e Ben Nasser deve dare una mano e poi c'è quel quartetto lì davanti che sta vivendo un periodo di grande forma Pulisic che sta segnando a Raffica sulla fascia destra Rafa Leao sulla fascia sinistra due spie nel fianco per la difesa della Roma di Daniele De Rossi poi Loftucic nella posizione centrale di trequartista lui è uno dei giocatori del Milan che ha segnato di più in questo 2024 e i suoi inserimenti la sua fisicità i suoi colpi di testa possono essere davvero letali nella gara all'andata di Europa League contro la Roma lì davanti conferma per Olivier Giroud un Olivier Giroud che ha segnato contro il Lecce dopo un mese di astinenza di assenza e sostanzialmente Giroud vuole migliorare se stesso perché ha quota 15 gol mentre l'anno scorso ne ha fatto 18 in totale quindi questi tre gol possono eguagliare il bottino dell'anno passato ma addirittura poi migliorarlo quindi vuole lasciare un bel ricordo io vi ricordo invece che in panchina il Milan ha gente come Adli come Musa come Okafor come Jovic ma soprattutto come Cukueze Cukueze in panchina è una grande arma che può spendere che può giocarsi a gare in corso a partita iniziata Stefano Pioli Cukueze anche lui sta vivendo un grande momento di forma ha segnato col Verona ma in generale è sembrato indemoniato tarantolato contro il Lecce a tal punto che voi tifosi sul sito ufficiale del Milan lo avete eletto MVP della partita nonostante non abbia segnato nonostante Pulisic abbia fatto un gol eccezionale nonostante Leao abbia fatto anche lui un gol così come Giroud oppure Adli abbia sfornato due assist nonostante questo Cukueze è stato votato migliore in campo questo vuol dire che anche lui sta riacquisendo tanta fiducia in se stesso ed è un segnale importantissimo quindi vediamo se quest'arma dalla panchina verrà sfruttata domani contro la Roma sarà una gara un duello bellissimo ad alta intensità ce lo auguriamo lo speriamo ci sentiamo più tardi con il secondo video di questo mercoledì 9 aprile un abbraccio a tutti ciao